Negli scorsi giorni di G727 si era presa in maniera immotivata contro Nico Pandetta Infatti ha postato una serie di stories dove ha attaccato Nico ma senza un motivo apparente Semplicemente per fare insulti gratuiti Probabilmente pensando che gli rispondesse Nico si è veramente infuriato per questa cosa E come si è visto fra l'altro in una live col brasiliano Alla fine è stato il brasiliano che ha mediato fra i due e ha risolto la situazione Però era veramente veramente incazzato per questa cosa Perché comunque non è una persona che si fa mancare di rispetto ecco Fino a che appunto G727 ha chiesto scusa pubblicamente Abbassando i toni e il capo per l'errore commesso Non aggiungo altro, vi lascio i filmati Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio Si chiama Colometetta in base alla macchina Capi? Tu giri con la banda e ti chiami Pandetta Fammi capire, allora io come mi devo chiamare? Come mi devo chiamare? Fate lì Te lo chiedo a te Nico Pandetta Kiwi Pansetta Kiwi Wendetta Ma che cazzo c'è? Fate lì Oggi sono il consiglio di professore Il professore devi sugliare Il professore devi sugliare Ci tenevo a fare questo video di scuse per Nico Pandetta E per tutto il suo staff che lavora su Roma Perché non ho usato belle parole Mi dispiace aver offeso Ovviamente massimo rispetto Allora prevedo Ehm... Allora prevedo Grazie.